per chiamare la squadra prima classificata, la squadra che volerà poi a Barcellona per questa fase internazionale della Danone National Cup, squadra prima classificata, il Napoli! Il Napoli prima classificato si aggiudica la Danone National Cup 2019 e ci rappresenterà in questa fase finale di Barcellona, Vito Di Gioia e Nicole Peresotti che consegnano le medaglie ai primi classificati, ai vincitori e ovviamente Alberto Salvia già pronto per la premiazione al capitano delle Napoli. Grazie a tutti! Grazie a tutti!